Questo video riguarda i migliori tre eco-scandagli. Il vincitore della qualità è Lawrence Elite. Il nuovo Elite Fishing System ti dà accesso alla gamma completa di strumenti Lawrence, tra cui Sonar Live Active Target, Active Imaging, Fish RVA e IC Map con tour precaricati e grafici caratteristiche principali Sonar Active Target Live e Active Imaging compatibile. Live Sonar, supporta accessori Sonar come Active Target e Active Imaging, simbolo di marchio registrato Sonar 3 in una funzionalità di rete completa. Più display, condividi Sonar, grafici, waypoint e altri dati utente tra display schermo multitouch ad alta. Risoluzione precaricato con C-Map con tour e grafici NMA-2000, supporto e controllo dispositivi NMA-2000 Radar HILG, guidare direttamente le cupole Radar Lawrence controllo totale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Garmin Stryker GT20. Integrare facilmente più motori. Collegatevi facilmente a prodotti nautici di terze parti con la commutazione digitale di One Helm. Create il vostro sistema marino personalizzato a bordo con una connettività di rete superiore. Supporto per le carte Garmin Navionics E e Garmin Navionics Vision e Premium. Vedere sotto l'imbarcazione grazie alle funzioni di ecoscandaglio integrate. Controllo delle attività marine da qualsiasi punto della nave 1. Con una maggiore potenza di elaborazione, un design a filo e sottile del vetro e uno schermo di dimensioni ridotte, questo plotter può essere facilmente installato in una varietà di configurazioni del timone. I nuovi display IPS ad alta risoluzione per i plotter da 9 e 12 pollici offrono una leggibilità ottimizzata alla luce del sole e una buona visibilità da qualsiasi angolazione. Il vincitore del premio è il Garmin 010 Certo. Il Fish Finder con GPS integrato, display da 4.3 e Quick Draw Contour. Ricevitore GPS integrato da 5 Hz aggiorna la posizione e la direzione 5 volte al secondo per visualizzare sul display ad 4.3 i movimenti dell'imbarcazione in modo fluido e dinamico. Il nuovo Fish Finder Striker Plus 4 dotato di ecoscandaglio tradizionale e CERP, luminoso display da 4.3 e ricevitore GPS integrato da 5 Hz per aggiornare la posizione e la direzione 5 volte al secondo, consentendo di contrassegnare in modo preciso fino a 5000 waypoint e di selezionare la rotta per raggiungere la destinazione desiderata. La funzione Quick Draw Contour permette di tracciare in totale autonomia le proprie vattimetriche HD ogni 30 cm. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.